Ciao a tutti, ci troviamo vicino a casa mia a Siena e faremo un sopralluogo in una tartufaia di nero moscato. Oggi è l'ultimo giorno, dopo di che chiuderà, siamo qui in compagnia delle mie finissime cagnoline di conca e lagotto, di otto mesi e pepita e labrador. In Itaura oggi monterà la GoPro sulla schiena, di modo che avremo modo di vedere le riprese della caccia a tartufo viste dall'occhio del cane. Buon divertimento! Buon divertimento! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. 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 Croce. La lazio. Walkerompoche. Arriva. Grazie. 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 Questa è una tartufaia che nel corso di questi due mesi è una tartufaia. Questa è una tartufaia che nel corso di questi due mesi è una tartufaia che non è una tartufaia. Questa è una tartufaia che nel corso di questi due mesi è una tartufaia che nel corso di questi due mesi è una tartufaia. Questa è una tartufaia che nel corso di questi due mesi è una tartufaia che nel corso di questi due mesi è una tartufaia. Questa è una tartufaia che nel corso di questi due mesi è una tartufaia. Questa è una tartufaia che nel corso di questi due mesi è una tartufaia. Questa è una tartufaia che nel corso di questi due mesi è una tartufaia. Questa è una tartufaia che nel corso di questi due mesi è una tartufaia che nel corso di questi due mesi è una tartufaia. Questo nero qua è come il bianchetto è molto in superficie quindi a volte bisogna essere molto veloci. Se non è il cane se lo vanno. Seduta? Seduta. 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 seeitosh forse c'è rimasto qualche pezzetto ok Grazie a tutti. Sono dei tartufi minuscoli che riescono a sentirli anche da decine di me. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.